Papa Francesco si fa voce dei poveri nel collegamento in diretta per l'apertura dell'Expo di Milano sul tema Nutrire il pianeta, energia per la vita. Chiede di non dimenticare i volti di milioni di persone che hanno fame e che non mangeranno in un modo degno di un essere umano. Propri poveri saranno una presenza nascosta che i visitatori dovranno percepire, perché sono, ricorda il Papa, uomini e donne che si ammalano e persino muoiono per un'alimentazione troppo carente o nociva. L'invito di Francesco è che l'Expo sia un'occasione propizia per globalizzare la solidarietà. Facciamo in modo che questa Expo sia occasione di un cambiamento di mentalità, per smettere di pensare che le nostre azioni quotidiane, ad ogni grado di responsabilità, non avviano un impatto sulla vita di chi, vicino o lontano, soffre la fame. Penso a tanti uomini e donne che patiscono la fame, e specialmente alla moltitudine di bambini che muoiono di fame nel mondo. Grazie. Grazie.